Grazie, tocca fare un saluto e un benvenuto da parte anche di ISPRA e del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, che è rappresentato da quel piccolo loghino vicino a quello di ISPRA e che è stato istituito come sistema nazionale da una legge entrata in vigore proprio quest'anno, la legge 132 del 2016, entrata in vigore quest'anno e che per l'appunto istituisce il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Il Presidente designato di ISPRA e del Sistema, Stefano Laporta, che è stato trattenuto a Roma questa mattina, mi ha pregato di portare però il suo saluto e il ringraziamento reciproco naturalmente per questa seconda presentazione del rapporto annuale ISPRA e sistema sul consumo di suolo che segue quella fatta qualche giorno fa a Roma. Mi ha pregato di sottolineare questo aspetto con questa veste di Sistema Nazionale, più tardi mi fermerò, mi tratterò invece per la tavola rotonda con la veste di Direttore Generale dell'ARPA, quindi dell'Agenzia per l'Ambiente, sottolineando questa idea e questo tentativo che stiamo facendo di costruire un sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente. Il legislatore del Parlamento, l'onorevole De Rosa, è stato uno dei propugnatori di questa legge, ha voluto mettere in rete ciò che fino ad oggi era stato solo tentativamente a rete, e cioè l'Istituto Nazionale, l'ISPRA e tutte le agenzie regionali per l'Ambiente. e istituendo questo sistema ha voluto nei suoi primi articoli sottolineare che il sistema si deve occupare di consumo di suolo, perché svolge proprio le funzioni come sistema integrato di monitoraggio dello stato dell'ambiente e del consumo di suolo, prima di tutto. Quindi ISPRA e il sistema si è messa a lavorare, peraltro per il quarto anno, con il rapporto, avvalendosi di tutti i soggetti del sistema, non solo del Prode Munafo, che poi ci farà una illustrazione sintetica del rapporto, e dei suoi collaboratori, naturalmente lo ringrazio come ringrazio tutti i collaboratori, non solo di ISPRA ma del sistema, quindi che nelle varie agenzie hanno portato il proprio contributo a costruire questo importante rapporto. Ma non solo, il sistema nazionale concorre, sempre ai sensi dei primi articoli, l'articolo 3 e l'articolo 1 di questa legge 132, alla riduzione del consumo di suolo. Quindi il legislatore ha voluto affidare alle agenzie per l'ambiente, proprio per il legame stretto, che esiste, intercorre tra il suolo e la sua perdita irreversibile e le conseguenze sull'ambiente, non solo sulla qualità dell'aria ma anche sui cambiamenti climatici. Dunque il sistema si mette a disposizione di chi poi deve prendere le decisioni come un sistema forte dal punto di vista tecnico-scientifico e tante volte poi se ne coglie la portata quando si osserva cosa succede in relazione ad altri rapporti. Proprio ieri con Toressa Cantoni abbiamo assistito alla presentazione da parte di Eupolis Lombardia del rapporto sulla Lombardia e uno degli indicatori legati all'ambiente e proprio al consumo di suolo aveva tra le sue fonti il rapporto ISPRA. Ecco che significa che questo è un lavoro che quando diventa punto di riferimento anche per altri soggetti che fanno conoscenza ne acquisisce ancora autorevolezza. Dico un'ultima cosa sugli obiettivi che questa legge istitutiva del sistema nazionale pone. Perché la grande novità di cui ci stiamo occupando, costruendo questo sistema, perché poi sistemi complessi tra istituzioni e non solo istituzioni, perché questa legge 132 dà dei ruoli importanti anche ai cittadini, singoli e nelle forme aggregate, agli stakeholder, ai portatori di interesse e prova a farne una sintesi finalizzata alla protezione e alla tutela dell'ambiente. Ecco l'altro grande obiettivo che pone questa legge, oltre alla costruzione di un sistema complesso, è quello di stabilire anche in materia ambientale il principio dei livelli essenziali di tutela dell'ambiente, delle prestazioni tecniche ambientali, poi le chiama, i LEPTA, sul modello dei livelli essenziali dell'assistenza. Cioè questa legge sta dicendo come in sanità tutti devono avere gli stessi diritti sul territorio nazionale. Anche dal punto di vista dell'ambiente e del livello di tutela dell'ambiente, il cittadino ha diritto ad essere trattato allo stesso modo a Milano come a Palermo. E però questo è tutto da costruire. E passa tramite la costruzione anche di un catalogo nazionale dei servizi del sistema nazionale, che oggi è una raccolta di ciò che Ispra e le agenzie fanno per esempio anche in materia di consumo di suolo. E la cosa importante è che tramite questi livelli essenziali bisogna individuare non soltanto ciò che adesso si fa, ma ciò che non si fa ancora per innalzare il livello, certamente non per abbassarlo. E questa è la grande sfida che attraversa tutto il Paese e tutti coloro che in questo momento ciascuno per la propria parte ha come responsabilità nella costruzione di questo aspetto. E quindi tornando al fatto che proprio nelle sue primissime battute anche questa legge sul sistema ci richiama proprio a un compito importante in materia di consumo di suolo ecco oggi sono a ribadire, quindi non solo come sistema delle agenzie, non solo come Ispra che l'impegno prosegue, l'impegno continuo, l'impegno viene da una storia, da una storia di conoscenza, da una storia di approfondimento ed è l'impegno proprio a seguire tutte le trasformazioni che il nostro territorio vive ahimè qualche volta in termini di perdita di suolo naturale e d'altra parte perdita irreversibile e d'altra parte ci troviamo nella regione in cui il consumo di suolo comunque cresce di più anche rispetto ad altre regioni. Certo se poi lo paragoniamo alla popolazione residente piuttosto che ad altri indicatori rendono diciamo l'osservazione un po' meno problematica certo che da Lombardo e non solo da direttore dell'agenzia per l'ambiente regionale naturalmente questo è un tema che colpisce e che non può lasciare fermi ecco quindi dal rapporto verrà fuori e viene fuori che il consumo di suolo diminuisce questa è l'estrema sintesi del rapporto ISPRA ma altrettanto viene fuori che non accenna a fermarsi e quindi a maggior ragione occorre avere tutti gli strumenti di conoscenza per poi mettere nelle mani dei decisori la possibilità di proporre e condurre azioni di soluzione. Grazie al dottor Camisasca, solo due sottolineature che volevo lasciare a questo intervento sia che sul diminuzione del consumo di suolo è vero ci preoccupa però come invece la pianificazione continui a immaginare prospettive di sviluppo anche rispetto a quello che diceva all'inizio il professor Pasqui che riguarda un modello di sviluppo che forse è da superare con maggiore decisione anche sui livelli essenziali delle prestazioni ambientali è un tema importante che chiama in gioco anche la pianificazione che proprio sempre di più in questi ultimi anni l'Istituto Nazionale Urbanistica è molto attento a questi aspetti sta immaginando anche come ridefinire i tradizionali standard urbanistici della pianificazione che guardavano alle prestazioni della qualità della città su elementi che oggi sono evidentemente superati e che oggi invece chiedono di inserire nelle prestazioni della pianificazione aspetti ecologico-ambientali che sono nuovi e che devono essere però usati come elementi di valutazione del piano. L'ultimo intervento di questo gruppo di interventi d'apertura, Pietro Mezzi, consigliere delegato della pianificazione territoriale di Città Metropolitana.